Arrivata al porto di Reggio Calabria, nave 18, unità della Guardia Costiera, proveniente da Lampedusa, con a bordo 589 migranti. A bordo era stata già segnalata la presenza di donne singole e numerosi nuclei familiari con tanti bambini. I migranti, dopo la fase di prima accoglienza, una volta sbarcati nel porto Regino, sono stati trasferiti nella palestra della scuola Boccioni di Gallico, dove saranno espletate, in modo più approfondito, tutte le formalità legate a controlli e profilassi sanitaria. Gran parte dei migranti sarà successivamente inviata in altre regioni, secondo il piano già da tempo predisposto dal Ministero dell'Interno. Dovrebbero andare in diverse regioni, tra le quali Veneto, Piemonte, Lombardia, Marche, Puglia e Campania, non escluso che qualche nucleo familiare possa restare in Calabria, ma non a Reggio. I migranti sono stati trasferiti da Lampedusa, alla luce del fatto che l'hot spot siciliano è ormai saturo. Secondo quanto si è appreso, il comune di Reggio Calabria si appresta a chiedere al governo l'attivazione di un hot spot in Rivalo Stretto.